Si parte! Polizia! Sì? Salve, cerchiamo Romina Gutierrez. Romina? Romina? Sì. Salve, sono l'agente de Luca. Romina Gutierrez? Sì. Siamo qui per perquisire la sua casa. Cosa cercate? Prove. Prove di cosa? Cerchiamo il denaro che Luke Glanton potrebbe averle dato. Sì, ma non abbiamo niente. Non potete entrare qui così. Sì, invece? No, che non può. Perché no? Perché è casa mia. Senta, lei faccia finta che io ho un mandato e io farò finta che sua madre ha i documenti in regola. Non ci mentiamo molto. Venite. Cofi. Cominciamo da sopra, va bene? No, 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 no. C'è mio figlio di sopra. Ah, suo figlio? C'è mio figlio che dorme. Davvero? Sì. Stia tranquillo. Lui è di sopra che dorme, quindi no. Non cominciate da lì. No, no, non andate di sopra. Non può andare di sopra. Sì, che può. Può andare su con lui se vuole, ma se troviamo delle prove mentre è di sopra, lei è in arresto. Per cosa? Ci è capitato un sacco di volte, lo sa. Facciamo piano. Va su, Scotti, e fa piano. Ci fa un bel caffè. Sì, sì, sì. Ci vuole proprio. Intanto posso dare un'occhiata qui in salotto? Sì, faccia pure. Grazie. Mi dispiace per la sua perdita. Proviamo a distruttare un po' la credenza. Romina, andiamo. Vieni. Grazie. Grazie.